Amici sportivi, avanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le telecomaniche del pandito. Quest'oggi siamo nel 2001 e stiamo a vedere un dark match, ovvero un match non trasmesso in televisione tra due nuovi prospetti della futura WWF o WWE. Il primo, vediamo l'ingresso nel ring del primo contendente, ovvero Rico Costantino. Abbiamo già visto un incontro di questo rottatore, un altro dark match di questo rottatore qui sul canale. Ovviamente si tratta di Rico, il manager di Billy & Chuck e poi successivamente rottatore sia a Rocky a SmackDown, conosciuto in Italia con il soprannome che Giacomo Ciccio Valenti diede all'epoca su Italia 1, ovvero Rico, faceva un gioco di parole con il nome Rico, utilizzando anche uno stereotipo sull'omosessualità. Il suo avversario ovviamente non sono riuscito neanche a introdurlo per bene, perché già sono andati dritti per dritto con l'azione, iniziando il match subito, senza neanche aspettare che il povero telecolista qui presente potesse concludere le sue introduzioni per bene. Il suo avversario è Nathan and Randy Orton, un altro che è uscito da quella fucile di talenti che è stata la WW, appunto all'epoca lottava nella WW, e anzi era uno dei prospetti più importanti della federazione dell'Ohio. e si vede come appunto già all'epoca Randy Orton dimostrava di saperci fare sul ring, andando con delle mostre atletiche molto belle, una serie di standing dropkick da parte del figlio di Cowboy Bob Orton, e adesso Randy Orton continua a dominare l'offensiva sul ring, addirittura andando con uno snake eyes all'angolo, e qui attenzione Randy Orton va con un nary sweep dalla parte all'alto del ring, e qui attenzione Rico, nonostante diciamo si metta un pochino ad eseguire la mossa, riesce a interrompere il lancio di Randy Orton, portandolo in trappola e facendolo sbattere con la testa con l'angolo, grazie a un drop to hold, e qui attenzione Rico dopo un'altra mossa tenta lo schienamento su Randy Orton, ma c'è solo il conto di due, da parte dell'abitolo Jimmy Cordelas, e qui il match continua con Rico che adesso cerca di capitalizzare il buon momento a suo favore, andando dritto per dritto con una serie di persone all'angolo, e qui attenzione calcio e rovesciato da parte di Rico, anche Rico in questo match diciamo fa vedere quelle che sono le sue doti in ring, sicuramente abbastanza valide, anche se la sua carriera in WWE successivamente non sarà poi così valida, come perlomeno quella di Randy Orton, che qui però subisce un back body drop da parte di Rico, buon momento da parte del futuro manager di Billy & Chuck, che continua ad inferire su Randy Orton, attenzione, Ari Swip all'angolo, Randy Orton a subire ancora l'iniziativa di Rico, che va ancora a pestare il povero Randy Orton, il giovane Randy Orton, che farà poi il suo debutto qualche mese più tardi, all'inizio del 2002 a SmackDown, e qui ancora back suplex da parte di Rico, tentativo di schienamento solo contro i due, da parte dell'abito Jimmy Cordellas ancora Rico, che va ancora ad inferire sulla schiena di Randy Orton, ancora tentativo di schienamento solo contro i due, da parte dell'abito Jimmy Cordellas invece continua con Rico, che ancora continua ad inferire un altro sidewalk slam, da parte di Rico ancora schienamento solo contro i due, ancora un terzo contro i due in poco meno di un minuto, e secondo me Rico prima di tentare la vittoria nell'incontro, secondo me dovrebbe andare con un'altra offensiva, e qui attenzione Ari Swip all'angolo, close line all'angolo da parte di Rico, che poi si impavolenta con il pubblico, che ovviamente non è per lui, non è a suo favore, e qui attenzione Snapmare, poi un calcio nella schiena, Rico continua a inferire sulla schiena di Randy Orton, ancora un colpo alla schiena, attenzione Rico, alza Randy Orton, attenzione, body slam, eseguita non perfettamente, però comunque riesce ad ottenere i suoi buoni risultati, attenzione di Swip, e attenzione, c'è finalmente la reazione da parte di Randy Orton, che però purtroppo si ripela un fuoco di paglia, perché Rico ancora abbatte Randy Orton con un calcio nero mesciato, poi addirittura cammina sul Randy Orton, poi tenta il volo, però Randy Orton si è scocciato, e va a raggiungere Rico al paletto, attenzione, tentativo di Superplex, bloccato però inizialmente da Rico, ancora scontro in alta quota, Randy Orton cale giù, e qui Rico potrebbe approfittare, però perde tempo a pavoneggiarsi con il pubblico, Moonsault a vuoto, ovviamente Moonsault va a vuoto, purtroppo Rico è stato colpivore dei suoi stessi errori, e qui attenzione Randy Orton, che potrebbe approfittare dell'errore di Rico, e qui attenzione, cerca anche l'appoggio del pubblico, che sembra anche abbastanza morto, ovviamente si tratta di un match tra due sconosciuti, quindi è normale che il pubblico lo sia, poi tanto partecipe, anche se grazie a questi match, che poi diciamo la WPF ha poi capito, chi portere avanti nel roster e chi no, e qui Randy Orton sta, comunque mettendo in difficoltà Rico, a risweep, attenzione, tilt wheel, backbreaker, schienamento, uno, due, tre, no, sono conto di due, continua il match, con Randy Orton, che ancora inferisce, su Rico, a risweep, attenzione a Rico, attenzione però Randy Orton, che chiude, Rico, lo prende, l'aggancio, uh, bellissimo, suplex, e qui va per lo schienamento, per il conto di tre, vincente, vince Randy Orton, mentre nel frattempo fuori casa mia, è passato Valentino Rossi, e su queste immagini io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre qui su YouTube.